Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video tutorial ovviamente di una magia Io sono Aurora e oggi qui con me c'è... Nix Oggi vi presenteremo un trucco che all'inizio farà restare di stucco Ma vi consiglio di non farlo più di una volta perché potrebbero capirlo Bene, adesso possiamo... Iniziare! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti